L'Otta alle discriminazioni e promozione della cultura del rispetto di genere al centro dell'iniziativa promossa dalla Commissione Toscana per le Pari Opportunità, che ha portato alla firma del protocollo Insieme per le Professioni, nato per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro. A illustrare il protocollo il Presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e la Presidente della Commissione Pari Opportunità Francesca Basanieri. Un messaggio importante è quello che oggi vogliamo dare, ringrazio la Presidente della Commissione Pari Opportunità Francesca Basanieri, ringrazio il Comitato interordinistico Insieme per le Professioni. Oggi qui noi vogliamo dire che tutti insieme possiamo cambiare le politiche pubbliche per sostenere la parità di genere nei luoghi di lavoro. Dicevo prima in conferenza stampa che ogni qualvolta una ragazza che arriva ad un colloquio gli viene chiesto se ha figli o pensa di avere figli e questo cambia la valutazione finché accadrà che soltanto un caso di questo genere sarà, accadrà, ognuno di noi deve sentirsi responsabile. Quando dico di cambiare le politiche pubbliche voglio dire prima di tutto cambiare l'approccio culturale che hanno tanti uomini e tante donne che partecipano ancora alla scelta e alla selezione e all'inserimento di donne nel mondo del lavoro. Questa mattina firmiamo un protocollo assieme a tutti gli ordini professionali della Toscana con l'obiettivo di lavorare insieme per costruire una cultura di parità diffusa su tutto il territorio. Grazie alle loro professionalità possiamo costruire iniziative e progetti che siano diffusi su tutto il territorio della Toscana e diano la possibilità di creare e di prevenire qualsiasi forma di violenza ma anche di costruire un mondo in cui le donne possano essere realizzate soprattutto sul lavoro. Credo che sia molto importante che le professioni si siano messe insieme e abbiano compreso questa necessità. È sicuramente un grande passo avanti. Un protocollo che va nella direzione di un impegno in prima persona contro discriminazione e violenza ha dichiarato Eleonora Ceccarelli, consigliera referente della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Io come Ordine degli Psicologi faccio parte insieme a altri 15 ordini e collegi principalmente ordini provinciali quindi della provincia di Firenze di un gruppo che si chiama Insieme per le Professioni. È un gruppo interordinistico e interprofessionale che ha l'obiettivo proprio di fare rete e di mettere insieme i saperi e le competenze che ciascuna professione ha a servizio di percorsi e progettazione in ambito di pari opportunità. La presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere è legge. L'Aula approva a maggioranza la norma, primo firmatario il consigliere del PD Andrea Vannucci, coi voti favorevoli di PD Italia Viva Fratelli d'Italia, astenuti Lega e Movimento 5 Stelle. Ha approvato anche un ordine del giorno collegato, sempre a firma Vannucci. Che gratifica il lavoro fatto in commissione, un lavoro che ha trovato anche una grande collaborazione con la Giunta, con l'assessore Nardini. Quali sono le novità? Le novità sono essenzialmente due. La prima si riconosce il ruolo di vittime per coloro che assistono a violenza e l'altra si istituiscono a livello regionale gli elenchi dei centri per gli autori di violenza. Da questo punto di vista si è resa necessaria una revisione della normativa del 2007, una normativa a cui aveva lavorato ai tempi la regione toscana e che era una normativa all'avanguardia, che aprì anche una strada per le altre regioni per una legislazione nazionale in materia, che aveva necessità di essere adeguata anche alle ultime novità intervenute a livello anche internazionale, a partire per esempio dalla Convenzione di Istanbul. Quindi da questo punto di vista la convergenza tra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta, un gruppo di lavoro con il coinvolgimento anche della Commissione Pari Opportunità e del Comitato regionale contro la violenza di genere, ha portato all'approvazione appunto di una modifica normativa su questi due aspetti e dall'altro su un ordine del giorno altrettanto importante nel modo di vedere laddove si va a determinare, ad avviare un percorso per un'ulteriore revisione complessiva dell'impianto normativo del 2007 e si incentiva la promozione di una serie di percorsi nelle scuole all'insegna del rispetto reciproco e della non violenza. La violenza di genere è un problema che vede l'Italia sempre più coinvolta, purtroppo è un problema che sta crescendo e è cresciuto a dismisura durante la fase del Covid e nel periodo immediatamente successivo. Non passa praticamente il giorno che le cronache non riportino se non un femminicidio o comunque attacchi violenti nei confronti delle donne. È importante che sia possibile per queste persone che riescono a denunciare la violenza e vogliono tornare a rappropriarsi della propria vita, che sia possibile per loro raggiungere facilmente i centri ed essere inserite in percorsi che gli permettano di ritornare ad una vita serena, di rappropriarsi della propria vita e quindi di guardare con fiducia al domani. È altrettanto importante che le persone che invece vengono a compiere questi atti, gli uomini, sia possibile anche per loro un percorso rieducativo attraverso quelle strutture che hanno tutti i criteri accreditati presso le regioni e negli accordi fatti tra lo Stato e la Regione. Io credo che l'Aula oggi, anche con il voto favolevole di Fratelli d'Italia, che forse su certe questioni a volte appare non così scontato, in realtà ci siamo assunti la responsabilità di dare un segnale politico importante. Oggi, con la proposta di legge che è stata votata, l'iniziativa della maggioranza, anche in Toscana, a completamento di quella che è la legge che già prevede i centri per la violenza e quindi anche per l'accoglienza delle donne vittime di violenza, oggi introduciamo anche delle strutture che possano in qualche modo supportare anche la reeducazione e la presa in carico degli uomini che in qualche modo sono coinvolti in dinamiche di violenza domestica. Io credo che questo intervento debba essere eletto a completamento del quadro regionale, ma soprattutto debba essere eletto non solo in un'ottica di prevenzione, ma soprattutto debba funzionare anche per la presa in carico, ad esempio, di persone che nel 90% magari si sono macchiate anche di reati, proprio su queste materie, quindi sul tema della violenza. Il concetto, il pensiero è sicuramente importante e noi siamo sostanzialmente d'accordo, non nelle forme in cui è stato proposto, perché ci siamo astenuti, ci eravamo astenuti in commissione volendo valutare un pochino più dettagliatamente l'argomento. La legge 57 del 2007, secondo noi, è già sufficiente, o meglio, è migliorabile, ma non con questa proposta di legge e con questo ordine del giorno, perché sostanzialmente non dice molto. L'ordine del giorno, eravamo anche disposti a votarlo, però era fin troppo specifico nella narrativa, cioè si parla di maschilismo e noi avevamo chiesto di togliere questa parola perché era nella narrativa già un giudizio, c'era già bullismo e era giusto, sessismo e era giusto, rispetto della persona e era giusto, ma maschilismo sembrava quasi dare una sentenza in quella che era l'argomentazione, per cui ci siamo astenuti. Approviamo questa legge a poche ore di distanza da un altro drammatico femminicidio che si è consumato in Toscana. È qualcosa che sconvolge le nostre coscienze, che ci invita a fare qualcosa di concreto e immediato nei confronti di tutti quelli che sono le vittime, ma soprattutto anche per chi esercita questa violenza. E dovrebbe essere l'obiettivo anche di questa proposta di legge che purtroppo, per come è stata impostata, per la mancanza assoluta di finanziamenti ulteriori che appunto non sono previsti, non sembra essere rispondente a quelle che sono le drammatiche esigenze di questo momento storico. Ecco il motivo per cui, seppur a malincuore, abbiamo dato un voto di astensione, anche perché all'interno di uno di questi articoli c'è un riferimento a uno sforzo di ricongiungimento relazionale che a nostro avviso può essere anche pericoloso, va contro, anzi, quelle che sono le raccomandazioni degli esperti che invitano a non fare quell'ultimo incontro, quell'ultimo appuntamento, e di lasciare che le strade di due persone si separino, specialmente quando in mezzo ci sono anche dei minori. Il Corre Comtur ha fatto tappa a massa, sesto appuntamento con l'iniziativa organizzata dal Comitato Toscano per le Comunicazioni, presieduta da Marco Meacci, volta a informare e comunicare a istituzioni e cittadini diritti e prerogative nel mondo delle telecomunicazioni. Una campagna che sta ottenendo un grande successo, come dimostra la tappa massese, a cui sono intervenuti il Presidente della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio della Regione Toscana, Giacomo Bugliani, il Presidente della Provincia di Massa, Gianni Lorenzetti, e i componenti del Corre Com, Carlotta Agostini e Biagio De Presbiteris. Siamo molto felici di questa nuova tappa del Corre Com Tour che stiamo portando avanti in tutta la Toscana, un'iniziativa che abbiamo assunto da qualche mese, siamo oggi alla sesta tappa e vogliamo far conoscere a cittadini, istituzioni, imprese, scuole e associazioni quelle che sono le funzioni principali di Corre Com, un organismo non sempre pienamente conosciuto per tutte le attività che svolge e che sono in qualche modo di utilità generale per i cittadini e per la comunità toscana. In particolar modo abbiamo la funzione di sorvegliare, in qualche modo di vigilare sulla programmazione radio-televisiva in Toscana, quella di portare avanti iniziative legate alle buone pratiche della comunicazione con tanti bandi che facciamo durante l'anno. E poi abbiamo anche progetti importanti come per esempio tutto il tema del patentino digitale che è un progetto rivolto alle scuole medie della Toscana che serve proprio per dare le basi per navigare in modo consapevole e sicuro ai ragazzi delle scuole. Il Corre Com è una grande opportunità e credo che iniziative come quella di stamani possano essere l'occasione giusta affinché questa struttura possa essere resa nota a tutti i cittadini i quali sanno in questo modo di essere maggiormente tutelati. Un'occasione anche per ribadire le funzioni fondamentali che il Corre Com esercita anche in termini di controllo sulla comunicazione a livello regionale. Da presidente della prima commissione che per diversi anni ha avuto presso di sé l'attività del Corre Com non posso che esprimere soddisfazione per il crescente impegno che questo organo ha assunto e anche per la sempre maggiore visibilità che sta assumendo in tutto il territorio toscano. Sono lieto questa mattina di ospitare all'interno di Palazzo Ducale, sede della provincia di Massacarrara, Corre Com in Tour. Una collaborazione non solo con il nostro ente, con la nostra provincia, ma con Ubi Toscana di cui sono presidente. Marco Meacci, presidente di Corre Com, penso che abbia fatto un'ottima cosa, quella di rilanciare quella che è la conoscenza dei territori e quindi attraverso le province che sono la casa dei comuni e invitando tutti quelli che sono i soggetti interessati dei territori a prendere visione e conoscenza di cosa si occupa il Corre Com. Dalla liberalizzazione delle telecomunicazioni e quindi la nascita di compagnie telefoniche ma anche televisive fino ad arrivare alla par condicio Corre Com se ne occupa, può dirimere le molte controversie che ci sono che purtroppo capitano ai cittadini, lo fa gratuitamente, ha anche una capacità di interlocuzione molto elevata e anche di riuscita delle soluzioni dei problemi che si avvicinano intorno al 90%. Quindi davvero oggi è una giornata informativa fino ad arrivare al patentino digitale che è un altro elemento molto importante che è rivolto agli studenti e quindi a coloro che si avvicinano al mondo della digitalizzazione del web è anche il luogo della risoluzione dei problemi. Quindi è una buona giornata di informazione che parte da massa ma che vede la collaborazione di UPI Toscana. Siamo molto soddisfatti di come sta andando questo Corre Com Tour, questa è la nostra sesta tappa, già nei prossimi giorni ne faremo altre due. In ogni provincia visitata abbiamo riscontrato molto interesse nel conoscere maggiormente quello che è il Corre Com e quelle che sono le sue iniziative e questo Corre Com Tour è stato fondamentale perché ci siamo resi conto che forse non era ben conosciuto l'organismo del Corre Com e siccome abbiamo in animo di fare molto nel campo della comunicazione perché tutti ormai siamo impegnati in questo campo e dobbiamo impegnarci sempre di più secondo noi era importante che tutta la Toscana conoscesse il Corre Com e quelli che sono tutti i lavori che porta avanti. Tra quelle che sono le competenze del Corre Com ovviamente la punta, l'apice di tutta quanta, la sua funzione consiste nella risoluzione delle controversie telefoniche. Il Corre Com infatti è in prima linea rispetto a quelle che sono il rispetto dei diritti dei consumatori in materia di comunicazione e in questo senso il ritorno economico in termini assoluti che torna nelle tasche dei cittadini è molto elevato se si considerano tutte quelle conciliazioni che vanno a buon vino e con anche le definizioni rappresentano una massa in numeri di qualche milione di euro che torna in tasca nelle famiglie toscane. Grazie. 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 Grazie.